Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera. Oggi continuiamo con l'ermetismo e parleremo di Salvatore Quasimodo. Nasce a Modica, in provincia di Ragusa, nel 1901 e trascorre l'infanzia in Sicilia. Non so se voi siete mai stati in Sicilia, ma vi consiglio di visitarla perché è una regione meravigliosa. A causa del lavoro del padre, Quasimodo però si sposta spesso, infatti il padre è capo stazione. Dopo il diploma, alle scuole tecniche, a 19 anni si sposta a Roma, dove svolge vari lavori e inizia a studiare le lingue classiche perché si appassiona. Durante un soggiorno a Firenze, Elio Vittorini, che era suo cognato, lo presenta a niente popò di meno che Eugenio Montale e ad Alessandro Bonsanti. Pubblica la sua raccolta d'esordio Acqua e terre nel 1930 per le edizioni di Solaria, rivista che abbiamo già citato parlando dell'ermetismo. Vi lascio qui il video per farvi una rinfrescata in merito a questa corrente letteraria. Le altre raccolte di Quasimodo sono Obo e Sommerso del 1932 e Erato e Apollion del 1936. Nel 1934 Quasimodo va a Milano e ottiene la cattedra di letteratura italiana al Conservatorio. Nel 1942 pubblica Ed è subito sera, che prende il titolo della sua poesia più nota, tutti voi la conoscete, sono sicura. In Acqua e terre, quindi la raccolta iniziale di Quasimodo, troviamo la nostalgia della Sicilia, che nel ricordo diventa un luogo mitico, ma anche la nostalgia è il ricordo della casa, della madre e della sua infanzia. Nell'esprimere il rapporto tra il dato reale e la condizione del poeta, la parola è magica. Un po' come la fatta Smemorina, che pronuncia bilidiboridibu e succede di tutto. I motivi di fondo della poesia di Quasimodo si ritrovano anche in Obo e Sommerso, dove la musicalità del linguaggio esprime il mito della solitudine dell'uomo nel dolore della vita. Non troppo allegra, eh? Sul piano stilistico, in queste raccolte, c'è un forte distacco da quella che è la lingua parlata e la parola si chiude ad ogni forma di volontà comunicativa. L'abbiamo detto, i poeti ermetici sono dei poeti che non vogliono dedicarsi ad un pubblico ampio, bensì ristretto. Notiamo la presenza di analogie, la confusione dei rapporti logici tra gli elementi del periodo, l'uso di una sintassi nominale, i sostantivi che non sono determinati dall'articolo e spesso vengono anche utilizzati al plurale e l'aggettivazione che tende ad attenuare. Con le poesie nuove, però, Quasimodo cambia ed è evidente nel dopoguerra perché il verso si allunga e diventa più lineare, il discorso si trasferisce anche su quello storico e la poesia diventa uno strumento di testimonianza politica. A favorire questo cambiamento sono gli avvenimenti della guerra e del dopoguerra, gli stessi motivi che si trovano nel discorso Il poeta e il politico del 1960, che viene pubblicato in quell'anno, anche se pronunciato un anno prima, da Quasimodo in occasione del premio Nobel per la letteratura. Muore a Napoli nel 1968. Iniziamo da Ed è subito sera. In questa lirca vediamo un'espressione concisa. La parola ha un significato profondo. Ci sono tanti rimandi analogici e una problematica interiore ed esistenziale. Ognuno sta solo sul cuore della terra, trafitto da un raggio di sole. Ed è subito sera. Il primo verso esprime la solitudine dell'uomo. Ognuno sta solo sul cuore della terra, quindi al centro delle cose. Da questi elementi però si sprigiona una contraddizione. L'uomo solo sul cuore della terra è trafitto da un raggio di sole. Quindi il raggio di sole, che è simbolo di luce, di calore, di vita, di nascita, trafigge l'uomo. Quindi lo ferisce, gli fa del male. Il raggio diventa come un dardo e porta morte e dolore. Infatti vediamo che subito, improvvisamente, sopraggiunge la sera, ovvero la fine. Emergono in questa poesia il tema della desolata solitudine, della precarietà della vita e dello sfiorire delle illusioni, dell'infinito e della morte. Emerge un po' l'influsso della lezione ungherettiana con Mattina. Anche se la riflessione di Quasimodo è diversa, perché riflette sulla condizione umana e ne dà una sorta di definizione poetico-filosofica. Una delle poesie che preferisco di Quasimodo è Alle fronte dei salici. Appartiene alla raccolta giorno dopo giorno e sintetizza l'esperienza degli ermetici che non potevano esprimersi liberamente durante il regime. Il componimento si apre con una lunga domanda sul significato della poesia in un mondo sconvolto dalla guerra. L'Italia, infatti, è con il piede straniero sopra il cuore. La risposta a questa domanda è negativa. Davanti agli orrori della guerra, i poeti non possono fare altro che tacere e appendere le loro cetre ai rami dei salici piangenti. Negli ultimi tre versi vediamo lo strazio del poeta e anche dell'umanità stessa. Quando noi parliamo di appendere le cetre ai salici, stiamo recuperando un'immagine biblica del Salmo 136esimo che racconta la prigionia degli ebrei a Babilonia. Anche gli ebrei avevano appeso le cetre ai rami dei salici. Sui fiumi di Babilonia la sedevamo piangendo, al ricordo di Sion. Ai salici di quella terra appendemmo le nostre cetre. La ci chiedevano parole di canto, coloro che ci avevano deportato, canzoni di gioia, i nostri oppressori. Cantateci i canti di Sion, come cantare i canti del Signore in terra straniera. Il salice è un albero associato al dolore e al pianto, mentre il tema del crocifisso presente in alle fronde dei salici richiama la figura di Cristo, a cui la madre, emblema della Vergine Maria, va incontro. Vediamo anche l'elemento del telegrafo, che è uno strumento moderno che rappresenta le nuove tecnologie. Quindi immagini archetipiche di dolore si uniscono anche a quelle della modernità. Quasimodo utilizza la prima persona plurale, noi, a conferma di una nuova direzione dell'esercizio poetico, che riscopre la solidarietà. Di ispirazione ermetica resta però il gusto per l'analogia, il lamento d'agnello dei fanciulli, l'urlo nero della madre, vediamo anche un cupo effetto sinestetico, e il figlio crocifisso sul palo del telegrafo. Un sentimento di commozione religiosa pervade i versi che nascono da questa memoria biblica. Come avrebbero potuto cantare liberamente i poeti ermetici durante il regime? Di qui il carattere meditativo che assume l'orrore, mescolando le immagini antiche di martirio alla modernità. La poesia non può offrire che il silenzio. Le cetre ormai sono appese e oscillano sui rami dei salici piangenti. Spero che questo video su Salvatore Quasimodo vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare un mi piace di supporto ed iscrivervi al canale. Salvatore Quasimodo vi sia piaciuto,